Ciao a tutti, come vai? Io sono Roberto Borrelli e oggi guardiamo ancora il mio programma Ambo e Ambetto Plus 2020. Vedremo come utilizzare al meglio questo programma, come utilizzarlo in modo proficuo. Ci sono anche i pronostici, quindi vi consiglio assolutamente di vedere subito il video, che però non è qui, questo è solo un reminder, un trailer in pratica. Sotto nella descrizione trovate il link al mio nuovo canale dove trovate il video per intero e ripeto ci sono i pronostici, oltre che la possibilità di contattarmi per avere informazioni su questo programma. Ciao a tutti, vi aspetto nel video completo che trovate sotto nel link. Grazie.